A seguito dell'incontro avvenuto tra l'amministrazione comunale di Pesaro e la ditta incaricata dei lavori della ponte ciclopedonale del Foglia, quest'ultima è stata sollecitata nell'accelerare i lavori affinché risultino completati entro la fine dell'anno, portando così ad attuare la fase di gettata anche nel periodo estivo appena concluso, per poi procedere con il completare i raccordi nei mesi che seguiranno. Stiamo parlando innanzitutto di un intervento molto importante che andrà a rivoluzionare quella che è la mobilità ciclabile e pedonale della città. L'intervento da 4 milioni è un intervento complesso, è partito ormai diversi mesi fa e ha riscontrato, non possiamo negarlo, diverse difficoltà nel corso di questi mesi. Da una parte l'aumento dei costi dell'acciaio in cui è realizzato il ponte, dall'altra parte anche le alluvioni che hanno visto nella fase di esecuzione dei lavori, dei ritardi per andare a rirealizzare l'argine e mettere in sicurezza il foglia durante i periodi più difficili dell'autunno scorso e questo ha indubbiamente portato a degli slittamenti rispetto a quello che è un cronoprogramma. Nel corso di quest'estate insieme all'ufficio tecnico del comune, insieme alla direzione lavori del cantiere ci siamo anche rincontrati per cercare di capire insieme come affrontare questi ostacoli, queste problematiche che ci hanno portato a questo slittamento nel cantiere. Ci siamo attivati per ripristinare intanto l'apertura della pista ciclabile, in particolare durante i mesi estivi e quindi in qualche modo consentire a chi utilizza la ciclabile solitamente esistente e solitamente di poterla continuare a percorrere in sicurezza. Il cronoprogramma aggiornato che ci ha mandato Radita prevede la conclusione dei lavori alla fine di quest'anno. È un intervento, come dicevo, da quasi 4 milioni di euro che consentirà ai quartieri a nord di Pesaro di poter essere collegati a piedi in bicicletta o anche ai mezzi di soccorso, di poterli collegare alla stazione del treno e al centro della città.